Gentili telespettatori, buona giornata. Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, adesso che il partito da lui fondato con Giorgia Meloni e se non sbaglio anche la russa, non vorrei di aver detto una cretinata, adesso che questo partito è il primo partito italiano, primo partito del centro-destra, Crosetto viene invitato in televisione, qualsiasi cosa dice su Twitter, viene subito ripreso dalle agenzie di stampa. Crosetto si è detto sicuro che a settembre, da settembre in poi, arriveranno i giudici contro, la giustizia arriverà contro Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, dice ne sono sicuro come lo avevo anche previsto per Matteo Renzi. Craxi, Berlusconi, Renzi, Salvini, tutti quelli che sono contro il Partito Comunista o il PD, diciamo, hanno qualcosa in comune dopo, qualcosa che li accomuna. Ma diciamo che parla anche di Matteo Salvini, dopo che in questi ultimi giorni Salvini prende le iniziative, va a fare proposte. Insomma, Salvini, non so se vi ricordate, durante il governo Conte I c'erano state le elezioni europee, Salvini aveva preso il 34%, il Movimento 5 Stelle era sceso alla metà al 16%, Giorgia Meloni era al 4%, 6%. Quindi lui nel governo Conte I spadroneggiava, diceva io non faccio cadere il governo ma aveva fatto capire adesso si fa quello che dico io. Allora vi faccio vedere un esempio, che poi Giuseppe Conte diceva che era una sgrammaticatura istituzionale. Lui, non so, il giorno 3 di quel mese lì i sindacati incontravano il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Lui il giorno 2, il giorno prima invitava lo stesso tutti i sindacati al Ministero dell'Interno per fare la stessa riunione. Una mancanza di rispetto totale verso il Presidente del Consiglio e quelle che sono le procedure. Da questo è per farvi capire che lui è abituato a fare, vuole fare quello che vuole senza rispettare alleati, senza rispettare le istituzioni. Oggi lui dice io vado là, lui prende e va, senza capire che all'interno di un governo parla il governo in contesti internazionali. Non parla. Dice io sono Salvini, allora ho deciso che vado a parlare. No, no. È stato rimproverato da tutti. Anche nel suo stesso partito Giorgetti ha detto ma no, ma no. Cioè, intorno a questo capitano c'è lo sconcerto. Lo sconcerto degli avversari, lo sconcerto degli alleati e lo sconcerto dei leghisti che, poveracci, è un anno e mezzo che cercano di difendere sto capitano in tutti i modi. No, lui è quel, lui, lui, lui. Ma anche loro ormai i tifosi più salviniani che ci sono stanno cominciando a cedere perché è indifendibile un personaggio del genere. Ve lo dico chiaramente. Guardate, io in passato l'ho anche lodato quando faceva il ministro dell'interno. Secondo me faceva un ottimo lavoro, si interessava delle forze dell'ordine, delle polizie, delle divise, degli orari di lavoro. Insomma, il ministro dell'interno lo faceva bene, lo faceva bene, ma non fategli fare nient'altro perché proprio non c'è, come politico proprio non ci siamo. Guido Crosetto dice proprio così. Insomma, sono le istituzioni che dialogano con le istituzioni, ma cosa gli è saltato in mente a Salvini? Ci sono dei periodi, dice Crosetto, in cui uno deve prendersi una vacanza. Dalle dichiarazioni pubbliche, dalla visibilità. Adesso, per esempio, c'è un weekend lungo, potrebbe andare in costiera malfitana. Caspiterina, gliene ha dette quattro in maniera non offensiva, ovviamente, ma è così che bisogna fare. Le cose vanno dette senza offendere le persone. Non c'è bisogno di offendere le persone per dire che uno non è d'accordo con le cose che fa. Per quanto le cose che Salvini fa possano sembrare così da ridere, delle cose veramente fuori dal mondo, bisogna comunque commentarle senza cadere nell'offesa. Non si devono offendere le persone. E poi, soprattutto, ricordatevi che si critica non la persona, ma il ruolo che sta ricoprendo politico. Quindi si critica il capo politico Salvini, non Matteo, l'amico per andare a mangiarsi la pizza. Si critica il capo politico Salvini. Si critica non solo la Lamorgese come ministro dell'interno, non come persona, ma come ministro dell'interno. Perché molti fanno l'errore, e anche grandi giornali hanno fatto l'errore, per esempio, di offendere Giorgia Meloni, non riuscendo a trattenere la loro rabbia rancorosa. E al posto che criticare il politico Giorgia Meloni, che non sanno come criticarla come politico, perché non c'è dove attaccarsi alla critica, allora vanno sul personale. Ma quando vai sul personale, significa che sei andato oltre, e significa che hai dei limiti tu come persona. Il tuo odio prevarica sulla razionalità che dovrebbe avere un giornalista o un giornale. Non è il primo giornale che si è beccato anche una querela per aver, per esempio, offeso personalmente, come Giorgia Meloni persona, averla offesa per diverse cose, per come parla, per dove è nata, cose veramente di un livello bassissimo. Cose che adesso vedremo, come dice Crosetto, passata l'estate, vedrete che campagna di odio mediatico ci sarà verso Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che ormai è il primo partito indiscusso. Ormai tutti i sondaggisti, anche quelli più di sinistra, non possono più mettere il PD davanti. A volte, per aiutare il PD, perché voi sapete che i sondaggi servono per manipolare anche l'opinione pubblica, sono uno strumento di manipolazione, anche i sondaggi più di sinistra, a volte mettono PD uguale a Fratelli d'Italia, stessa percentuale. Non è vero, ma lo fanno per aiutare il PD. Ormai Giorgia Meloni è tra il 22 e il 23%, il PD intorno al 21% e la Lega intorno al 15% e il Movimento 5 Stelle tra il 12 e il 13% e Berlusconi, tra il 7 e l'8%. Questi ormai sono abbastanza consolidati. Non c'è più Giorgia Meloni che cresce in maniera esponenziale, anche perché quelli che volevano scappare da Salvini sono scappati, sono andati un po' con paragone, un po' di qua e un po' di là, ma adesso ancora tengono dentro la Lega quel 15%, qualcuno dice tra il 13 e il 15%, però potrebbe ricominciare un'emorragia di voti all'improvviso. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.